Ti occupi di sport o di attività fisica per professione o per passione? Bene, allora ti invito nella mia pagina. Ogni giorno alle 7 e un quarto un video basato su evidenze scientifiche internazionali. Non opinioni o cose tramondate nel bar, ma fatti certi, evidenze scientifiche pubblicate su riviste internazionali di grande impatto. Perché? Perché ormai, se si vogliono fare dei grandi risultati per il futuro, l'esperienza da solo non basta. E allora, con fatti certi, con evidenze, si possono portare a casa degli elementi per migliorare sia quello che stiamo facendo per noi stessi che magari che facciamo per i nostri allievi o per i nostri pazienti. Tutto quello che riguarda le tematiche dell'allenamento che possono passare dalla fisiologia, alla nutrizione, biomeccanica, medicina e quant'altro. Evidenze scientifiche applicabili al mondo dello sport. Io sono Gianmario Migliaccio, sono dottore di ricerca in Sport Science, l'area della scienza applicata allo sport. Ti aspetto ogni mattina alle 7 e un quarto. E se vuoi trovi già oltre 200 video e sicuramente almeno uno di questi ti potrà piacere. Metti mi piace alla mia pagina e ci vediamo domani mattina, 7 e un quarto. Ti aspetto.